Si fa fatica a chiamarlo Raptus. Il duplice omicidio di ieri sembra essere stato frutto di una lucida furia omicida che ha travolto Francesco Marfisi, il sessantenne operaio di Lanciano che ha ucciso prima la moglie Letizia Primiterra, 47 anni, e poi la sua migliore amica Laura Pezzella, 33 anni. Due femminicidi commessi a colpi di coltelli da cucina nell'arco di pochi minuti in due località distinte. Il primo nel cuore di Ortona, nel popolare quartiere San Giuseppe, ancora sotto shock. Il secondo in una villetta di campagna in Contrada Tamarete, a 5 chilometri dal centro, non lontano dalla casella autostradale. Dopo essere stato catturato dai carabinieri proprio sul luogo del primo delitto, dove Marfisi, coltelli alla mano e vestiti insanguinati, era tornato probabilmente per uccidere l'amica della moglie che l'aveva temporaneamente ospitata in casa o forse per ammazzare la figlia incinta di 5 mesi che è rimasta ferita lievemente, nell'interrogatorio condotto nella caserma dei carabinieri di Ortona dal PM della procura di Chieti, Giancarlo Ciani, Marfisi ha ammesso tutto raccontando di essersi presentato dalla moglie armato di coltello per spaventarla e costringerla a tornare a casa. L'uomo avrebbe riferito della sofferta separazione dalla moglie parlando anche di una presunta relazione tra la coniuge e Pezzella con le due donne che si preparavano ad andare a convivere entrambe reduci dalle separazioni con i rispettivi mariti. Una convivenza per dividere le spese forse malinterpretata da Marfisi che proprio a Laura Pezzella ha imputato la fine del suo rapporto amoroso. Tra l'altro il sessantenne era stato denunciato qualche giorno prima dalla moglie che temeva l'aggressività del marito affidandosi ai centri antiviolenza. Un duplice omicidio che forse poteva essere evitato e che sta aprendo anche a livello nazionale un dibattito sul ruolo dei centri antiviolenza, sull'ondata di femminicidio e sulle possibili contromisure da adottare. L'associazione Dire, la rete nazionale dei centri antiviolenza, commentando i tre femminicidi avvenuti ieri, i due di Ortona e quello di Camisano Vicentino, ha posto l'accento su un sistema che non funziona, sottolineando come togliere le donne dal pericolo di vita sia un compito possibile ed un dovere di una società civile, delle istituzioni, di tutti i soggetti coinvolti nel prevenire e contrastare la violenza maschile.